il treno regionale 5901 di trenitalia proveniente da sacile e diretto a venezia santa lucia delle ore 4 e 50 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma lancenigo treviso centrale santro vaso preganziol mogliano veneto venezia mestre ospedale venezia mestre venezia porto marghera il treno regionale 11 001 di trenitalia proveniente da udine e diretto a venezia santa lucia delle ore 5 e 47 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma lancenigo treviso centrale santro vaso preganziol mogliano veneto venezia mestre ospedale venezia mestre venezia porto marghera il treno regionale 11 00 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia e diretto a conegliano delle ore 5 e 57 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma su segana il treno regionale 50 96 74 di trenitalia proveniente da treviso centrale e diretto a calalzo pieve di cadore cortina delle ore 6 e 16 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma conegliano soffratta vittorio vento santa croce del lago stazione per l'alpago ponte nelle alpi polpette longarone zoldo il treno regionale 11 00 02 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia e diretto a udine delle ore 6 e 33 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma conegliano sacile fontana fredda pordenone cusano casarsa codroico basiliano il treno regionale veloce 27 84 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia e diretto a udine delle ore 6 e 59 e in arrivo al binario 2 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma conegliano sacile fontana fredda pordenone cusano casarsa codroico basiliano il treno regionale 11 007 di trenitalia proveniente da conegliano e diretto a venezia santa lucia delle ore 6 e 59 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma lancenigo treviso centrale preganziol mogliano veneto venezia mestre ospedale venezia mestre venezia porto marghera il treno regionale 11 108 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia e diretto a calalzo pieve di cadore delle ore 8 e 52 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma conegliano vittorio veneto santa croce del lago stazione per l'alpago ponte nelle alpi longarone zoldo ospitale di cadore per a rollo di cadore il treno regionale 33 68 2 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia e diretto a ponte nelle alpi delle ore 8 e 52 e in arrivo in ritardo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma conegliano vittorio veneto santa croce del lago stazione per l'alpago il treno regionale veloce 28 26 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia e diretto a 08 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma su segana conegliano pianzano orsago sacile fontana fredda pordenone cusano codroipo basiliano udine manzano san giovanni al natisone cormons gurizia centrale sagrado runchi dei legionari nord monfalcone sistiana il treno regionale veloce 28 44 di trenitalia proveniente da trieste centrale e diretto a venezia santa lucia delle ore 8 e 57 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma lancenigo treviso centrale santro vaso preganziol mogliano veneto venezia mestre ospedale venezia mestre il treno regionale 11 004 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia e diretto a sacile delle ore 9 14 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma su segana conegliano pianzano fornico orsago 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 o